È possibile accedere a Swyte da un computer o da un qualunque dispositivo mobile, come il tuo smartphone o il tuo tablet. Ti basta andare su admin.aruba.it. Da qui inserisci lo username Aruba, la password e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il dominio collegato a Swyte. Diversamente l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, clicca su Applicazioni. Dalla sezione Swyte, seleziona Gestisci. Dalla schermata che segue, clicca nuovamente su Gestisci. E ci siamo! Questo è il pannello dove puoi gestire il tuo sito Swyte.